che non faccio live siamo tornati allora proviamo questo nuovo gioco mmmm dai su chi vuoi? eh lo so ok bello chi che ha scritto? oh bella Davide Bebona lascia un bel like, attiva la campanella e iscriviti se sei nuovo eh e condividi la live bella bella condividete ragazzi la live iscriviti se siete nuovi e attivate la campanellina oh ciao Nelea Zagain bella lasciate un bel like ragazzi iscrivetevi e attivate la campanella eh bella bella allora dovrei mettere la copertina se me la fa mettere oh bello bella bella ma mi fa ma fai fortnite adesso no Davide oh bella Tommaso Ruiz no faccio questo nuovo gioco voglio provarlo quindi quindi se vuoi vederlo ma anche tu in live lo proviamo sei bello grazie no eeeh no ho sbagliato no vabbè lasciate un bel like iscriviti ragazzi se sei nuovi e attivate la campanellina per non farlo con il giorno del live ma è multiplayer no ma lo metteranno adesso è single player ma poi lo metteranno Davide praticamente questa persona che sta sull'aereo poi l'aereo c'ha tipo una varia al motore noi cadiamo in un'usuleta sperdura vedi 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 c'era tipo un terremoto ecco e noi dovremmo tipo sopravvivere metti di squali serpenti eeeh e quant'altro allora re figo ecco vedi siamo veramente morti non siamo morti ovviamente allora mini pura OMG grandi ragazzi lasciate un bel like iscrivete al canale che tu fa? raggiungi la zatte di salvataggio ovviamente questo gioco è uscito il 21 aprile 2020 raga eh dov'è la zatte? ecco questa è la nostra mini zatte raga in te questa è la nostra mini zatte raga in te allora fai a mi mettere qualche miniatura va cosa è successo? OMG si questa è figa ok allora salva col nome ok dai su su fammi mettere la miniatura ok allora raggiungi la spiaggia ok oh la zattera no la voglio utilizzare come si usa? no la voglio utilizzare ah proprio non raggiungiamo la spiaggia ok ok si sa ma se mi fa mettere la miniatura ma mannaccia la miseria vai raccogli due sassi ah questo è il nostro smartphone eh cosa lo faccio ah vedi questa è 24 aprile siamo al 250 ok questo è un sasso? questo è un sasso! che ci dovrei fare con questo sasso di merda? che vuoi utilizzare la dosa del granchimo da ps4 è gratis? no mi sa che no costa 20 costa 20 però gli vale aspettate un attimo come mettere la miniatura c221 aprile per hitbox e ps4 ok salva ok come cazzo? cosa ha fatto? ah ah ho capito ok si ci siamo poi ok questo qua fammela condividere discord generale son in live ok ok ci siamo ok ok allora raccogli due bastoncini no lo voglio ok abbiamo saltato anche i serpenti raga i serpenti ok 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 non lo so davide penso di sì forse stasera fortnite forse 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 stasera fortnite faccio allora allora r1 ok 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 un altro ok 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 cosa è questo? ah niente ok usa R1 per aprire il menu ooh ok 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 Ehm, ah ok, lo iucca, ok Ok aspetta che non devo spostare la cam non riesco a leggere allora ok adesso molto meglio ah ok fatta coltello raffinato allora coltello raffinato mi rompiamo il culo adesso dov'è il granchio di merda va a farmi bene qualche sassetto appena l'ho visto appena uno il granchio di merda belli oh ma what the fuck l'ho preso eeeh come si ci puoi Sto schifo No aspetta Aspetta un attimo Muori Attacci tua Ok Ah fatta Grande ho fatto ho fatto Allora poi che dici Posiziona un campo da fuoco Ce l'ha? Ah io non ce l'ha il campo da fuoco Dove farà leggermente più piccola Oh ok Yeah there's some more tomato Oh so disgusting Ah ok Cosa mi serve? Forse la legna? Palma Ammazziamo la palma Forse si spacca Oh ma già utacca Ok Bella Francesco So lascia un belacca la leva Ma Ma So lascia un belacca la leva Ah ok Bella Francesco Grande grande Francesco Allora Allora Mi serve legna Non quella Lì c'è un contene Andiamo a vedere Non c'è un belacca la leva Non c'è un cazzo Che è? Ah Non c'è un cazzo Ok Albero Ok Allora Allora io adesso mi avrò mettere Io mi posizionerei qua Ah Preparare la linea D'arte No Quando trovo sta così Mezz'ora Dai Ma accenditi Fuoco di merda Ma io lo sto a far bene Ah Ok Ah Fatto Allora Adesso Noi adesso Attacca No Ho sbagliato Ho spinto Il fuoco Ce l'ho altro La linea d'arte Sì Spinto Il fuoco Dai Accenditi Ok Ok Mamma mia Ma che signore Fai Cuocere Ok Come si è? Ok Dovrebbe essere cotta Dovrebbe essere cotta D'aiuto Aiuto Aiuto Ma Come fai che Ieri Mi è cotta Mi è l'asso Così Mi è l'asso Così ma io non lo so quando è andata dove? ah ok abbiamo fatto oh ma sarà cotta no ah ok infatti è cotta non dobbiamo morire ottieni quattro foglie di palma abbatti una va bene abbattiamo le palme abbiamo fatto tanto ai serpenti però oh ferma di vero ok non si vede un cazzo oh 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 vabbè dove sta raccogliendo a posizione un rifugio salve saverio bella saverio allora 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 mi manca quella foglie fibrosi non abbiamo spazio quindi andiamo a buttare ah ok ok vabbè 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 ma what the fuck e mi si è rotto ma che palle mi si è rotto allora cosa? ah i pipistrelli non c'è ma o ma ma un'effetto mi manca lì allora palma palma lì 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 Luiucchia Ma Bella Eh lo sapevo Lascia un bel like la live E che Sai che non è nei feed Quando mai Dai Ah si è besta si Ah ok Ma non si spacca Ma si è buggato Cioè ma si è buggato Perché ci sono i pipistrelli Eh me ne mancano quattro Ce n'ho una Vaffanculo Luca Ok Ok Mettere No Mai Ok Salva Ah ok E dormi Che balla l'alba Mi si è spento pure il fuoco Ma poi Dove è andato il fuoco Ma Ma what the fuck What the fuck Ma le armi ci sono Ah che pre Bono il galiciano Ah ci sono anche le armi Ok 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 Di avanti la faremo Allora Ok Salva Ok qua Ok Ci sono altre isole Da ispezioneare Ovviamente Ok Vai Per esempio Ok La palma Ok Mi è sparito Ah eccolo Ok Adesso non mi serve Perché Andiamo a caccia Per fare una lancia Siacola Ah Ah lascia Ok Andiamo a prendere un po' di Piedra Allora La lancia La faccia Oddio Allora Dov'è la mia zattera? Lì c'è tipo un relitto Non lo vedete Si ma dopo ci che fate Ah ok Ehm Dopo Stasera Ah ma lì c'è Ma lì c'è un relitto 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 Uh razze Ci sono razze Prego Dove è finta la mia Ma la mia zattera Che fine ha fatto Dove è finta la mia zattera Ah ma è stanco Bene Ok Linha presa Ok è vero Una torcia Ottimo Straccio Ma che ha brutto tempo Ah ma sta piovendo Qua ci sono altre palme Altre palme Troppo Non ci sono Ah ti Poi Non ci sono Grazie a tutti. 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 Che è una palma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove cazzo? Via 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 non è sicuro. Grazie a tutti. 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 Andiamo a vedere. Grazie a tutti. C'è uno squalo. Non posso scappare. In uno squalo. Squalo di merda. Vieni qui. Non è sicuro. Ah, ecco. Ah, ecco. Legna. Ok. Adesso mi serve. Adesso mi serve. qua. la... diventa... è sicuro. che... non è sicuro. è sicuro. non è sicuro. 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 Manca la ... nietua. andiamo a trattare le noci di cocco va il nostro corso gratuito che non vedo un cazzo andiamo a rilitta qua dov'è a rilitta? non mi ricordo grande franci andiamo a morire vai io vado tutto in un soffio mamma mia ma che te sei in culo ma c'è un cazzo diventa il giorno dopo andiamo a rilitta adesso fa il giorno ok bravo grande non c'è un cazzo no ok ok ciao Giulia Scarpa lascia un buon like e ti ha campanile e iscriviti se no Giulia allora bella venuta Giulia andiamo a prendere il tuo reddito dov'è? dov'è l'edito? ok andiamo a suicidarci ciao Giulia andiamo a morire no Antonio ciao Antonio ciao Antonio ciao Antonio ciao 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 via 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 a razza Devo mangiare, c'ho sete, va, va in culo Ah, ok, ok Allora, lasciamo, lasciamo qua, ok Andiamo a prendere la noce di cocco Allora, lasciamo, lasciamo, lasciamo Lasciamo, lasciamo, lasciamo Vai che piove, vai che piove Vai che piove Spieghiamoci Corri, 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 corri Corri, 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 corri Ah, che bello, abbiamo l'acqua Bello, piove, piove 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 Grazie a tutti Ok E' un nuovo gioco E' che? E' sempre di supervivenza Si chiama Stranded Deep Ah pensavo che era coso Forrest o Forrest No non è Forrest E' zumbi Ma è gratis Qua si vale? Ne vale 15 mi vale Qua c'è il cazzo? Vabbè Acqua mi manca Qui che c'è? Qui non c'è niente L'acqua c'è? C'è 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 l'acqua Speriamo che va un po' di sladato Ah Non male Un po' d'acqua Adesso abbiamo fatto Il serpato che d'acqua Ok Ok Qui è? Cia? E' giù Qua sotto Andiamo a vedere se c'è un'acchiare lì Ma sta scendo sta? Eh? Aspetta qua sotto Eh? Eh? E' una ciotola Sì Detta la ricotta Ricotta e spinaci Ma che ciaacchia Non mi sento tanto bene Che palle Ma? Ma? Ah Scegliamo a niente Allora Vieni qui Stronzo di merda Dove è andato? In mezzo a ciaspo Io fintano Abbiamo l'acqua Ok Ok Abbiamo aggiunto la fibra Ok Cos'è? Vedi un po' Ci sono altri elitti Non c'è un'altra squadra Non c'è un'altra squadra Allora Come No non c'è un'altra squadra Non c'è questa scena Ma ci sono Com'è un'altra squadra Mmm Un'altra squadra Vedi un'altra squadra Trovato E' un'altra squadra Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non c'è nessuno.